La lettura è un atto di resistenza, è una bellissima frase di Daniel Pennac che è presa a motto dal Comune di Napoli per l'iniziativa Libri a Casa, comprare libri dalle librerie napoletane che verranno recapitati direttamente a casa. È un modo per sostenere un settore che è molto in crisi ed è un modo anche per procurarsi un bene di prima necessità, perché un libro è il modo per andare in viaggio, nonostante si sia chiuso in casa, per andare in viaggio dalla propria poltrona. Quindi, per favore, aderite a questa meravigliosa iniziativa del Comune di Napoli insieme alle librerie napoletane. Libri a Casa.